Buona serata a tutti amici di Super J. Prosegue la fase più stabile rispetto ai giorni scorsi grazie alla risalita di aria più calda dal Nord Africa che sta determinando minori contrasti termici in quota e di conseguenza sono veramente sporadici temporali sulla catena penninica. La situazione rimarrà stazionaria anche nella giornata di domani ma le novità anche rilevanti avverranno durante il weekend. Infatti sembra ormai confermato lo scivolamento di una goccia fredda in quota che dalla Francia giungerà nel Nord Italia nella giornata di sabato e poi gradualmente scivolerà fin verso il medio adriatico prima di spostarsi verso i Balcani. Ci saranno dunque fortissimi contrasti termici e il rischio di temporali anche di notevole intensità sarà elevato. Ne riparleremo meglio domani entrando nel dettaglio delle zone coinvolte. Ma andiamo ora invece a vedere cosa si prevede in Abruzzo nella giornata di domani 21 giugno. Tempo sempre soleggiato su tutti i settori con solo poche nuvole durante le ore centrali lungo la catena penninica ma senza alcun fenomeno di rilievo. La ventilazione rimarrà piuttosto debole e a regime di brezza sulle coste. Il mare rimarrà calmo così come le temperature che saranno stazionarie e comprese tra 28 e 32 gradi per ciò che riguarda le massime e tra 15 e 21 gradi per ciò che attiene alle minime. Grazie a tutti per l'ascolto e buon proseguimento di serata.